Gli oli essenziali per i traumi e le lesioni. Quali sono e come usare gli oli essenziali in caso di traumi e lesioni come strappi muscolari, contusioni e distorsioni. Gli oli essenziali possono essere utili alleati contro lesioni e traumi causati da piccoli infortuni domestici o sportivi. Vediamo quali sono le miscele di oli essenziali più adatte per curare dolore, lividi e piccole lesioni. Oli essenziali per lividi Una miscela di oli essenziali utile per combattere contusioni e lividi che possono comparire in seguito a piccoli traumi o cadute. Ingredienti Maggiore di 30 ml di olio vegetale Maggiore di 10 gocce di olio essenziale di cipresso Maggiore di 5 gocce di olio essenziale di geranio Maggiore di 5 gocce di olio essenziale di zenzero Maggiore di 5 gocce di olio essenziale di sopo Maggiore di 3 gocce di olio essenziale di menta. Procedimento e uso Aggiungete gli oli essenziali all'olio vegetale, di mandorle dolci, di girasole o di oliva. Agitate leggermente la bottiglia e lasciate riposare per 24 ore. Conservate l'olio in una bottiglia di vetro scuro da tenere a temperatura ambiente al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. In caso di contusioni, per velocizzare il riassorbimento dei lividi, massaggiate un cucchiaino di olio sulla zona da trattare 3 volte al giorno. Oli essenziali contro le distorsioni In caso di distorsioni e slogature a gomiti, polsi e caviglie, preparate questo olio da utilizzare per effettuare massaggi o impacchi con argilla verde. Ingredienti Maggiore di 30 ml di olio vegetale Maggiore di 10 gocce di olio essenziale di camomilla Maggiore di 10 gocce di olio essenziale di zenzero Maggiore di 5 gocce di olio essenziale di noce moscata Maggiore di 5 gocce di olio essenziale di chiodi di garofano Procedimento e uso La preparazione di questo olio è uguale alla precedente. Conservate l'olio in una bottiglia di vetro scuro lontano da luce e calore. Potete utilizzare l'olio massaggiandolo più volte al giorno sulla zona da trattare o, in alternativa, aggiungere un cucchiaio d'olio a uno o due cucchiai di argilla verde ventilata per realizzare un impacco. Mescolate l'olio e l'argilla fino a ottenere una crema densa e senza grumi da applicare sulla zona da trattare, lasciando agire per 15 minuti. Olio essenziali per gli strappi muscolari Se dopo lo sport o a causa di un movimento brusco avete dolori muscolari dovuti a uno strappo, preparate questo olio da massaggio. Ingredienti maggiore di 30 ml di olio vegetale Maggiore di 10 gocce di olio essenziale di rosmarino Maggiore di 10 gocce di olio essenziale di menta Maggiore di 10 gocce di olio essenziale di eucalipto Procedimento e uso Come per le precedenti ricette, anche in questo caso dovrete semplicemente aggiungere gli oli essenziali all'olio vegetale, che può essere olio di mandorle dolci, olio di girasole o olio di oliva. Agitate la bottiglia e lasciate riposare per 24 ore prima di utilizzare l'olio. Conservate a temperatura ambiente al riparo da luce e calore per 6 mesi al massimo e, in caso di strappi muscolari, usatene un cucchiaino da masseggiare sulla zona da trattare 3 volte al giorno.